In occasione della giornata mondiale contro l'AIDS che si celebra ogni anno il primo dicembre, prendi via la campagna di sensibilizzazione HIV. Ne parliamo? Ispirata dalle storie di persone con HIV. Una campagna che parla di stigma, di relazioni, di salute mentale, aderenza terapeutica e dialogo medico paziente e che prende spunto da un'indagine condotta da Elma Research dalla quale emerge che il 40% di chi vive con l'HIV ha preso dell'infezione casualmente e che è ancora forte la difficoltà di comunicare la propria condizione a familiari e amici. Questo fa capire come ci sia ancora bisogno di parlare di HIV per abbattere lo stigma ma anche per favorire l'informazione e di conseguenza l'adesione al testa. Fondamentale può continuare a parlare. Vediamo come l'HIV per molti suoi aspetti rappresenta il problema sociale e questo lo risolviamo solo dal punto di vista culturale. Abbiamo bisogno di educazione, abbiamo bisogno di formazione. Parlo di educazione perché viene ben prima della formazione. L'educazione la si fa a scuola, la si fa in famiglia e questo già è un aspetto che manca. L'altra parte è l'informazione, bisogna parlarne, bisogna parlarne correttamente. Spesso quando si parla di HIV si fa disinformazione, quindi è assolutamente necessario che i messaggi che vengono dati siano messaggi corretti e parlarne ed educarne fa parte, è il primo mandato verso quello, il raggiungimento dell'obiettivo principale che è quello della riduzione delle nuove infezioni. In questo contesto ovviamente il test rappresenta l'altro punto cardine. Dobbiamo assolutamente offrire il test, promuovere il test. Le persone che hanno contratto l'infezione, anche se non lo sanno, devono rapidamente e più presto possibile venire a sapere il proprio stato di sieropositività. Dal momento in cui una persona contrae l'infezione, al momento in cui si sviluppano i sintomi dell'AIDS, possono passare dieci anni. Se in questi dieci anni la persona è inconsapevole del proprio stato di sieropositività ovviamente del tutto inconsapevolmente ma può trasmettere l'infezione. Sapendo tramite il test il proprio stato di sieropositività ovviamente si interrompe la catena del contagio. Un altro dato importante della ricerca di Elma Research è che il 60 per cento delle persone scopre l'infezione in fase avanzata, cosa che può compromettere l'efficacia delle cure che oggi si assunte tempestivamente e correttamente nel tempo, grazie a terapie di ultima generazione, efficaci e ben tollerate, consentono una buona qualità della vita e di raggiungere l'obiettivo del cosiddetto U uguale U, cioè non rilevabile uguale a non trasmissibile. Questo permette di raggiungere una qualità della vita eccezionale rispetto solo a qualche anno fa. Dal punto di vista dell'aderenza le due cose vanno d'accordo. Il fatto di poter avere dei farmaci così efficaci, così facili da assumere permette di arrivare a un'aderenza che è un'aderenza molto elevata. Se l'aderenza è elevata riusciamo ad arrivare praticamente al cento per cento a una replicazione non rilevabile che è il principio fondante del claim U uguale U. Un aspetto da non trascurare come in tutte le malattie croniche è quello psicologico. Sono numerose infatti le persone con HIV a rischio depressione, non solo per lo stigma ma anche per cause biologiche legate al virus o alle terapie. E uno stretto dialogo fra medico e paziente è essenziale per identificare chi può aver bisogno di un percorso integrato e multidisciplinare. Quale può essere il ruolo del rapporto medico-paziente all'interno di tale contesto? Beh, io penso che possa assolutamente ricoprire un ruolo fondamentale relativamente al fatto che è sicuramente uno spazio all'interno del quale la comunicazione può avvenire anche su tematiche che spesso dal punto di vista emotivo sono di difficile gestione per chi le vive personalmente. Inoltre il rapporto medico-paziente può essere quel momento in cui queste tematiche vengono toccate, vengono conosciute, esplorate meglio e allora in quel momento si crea la possibilità di riuscire a valutare insieme con il medico e il paziente come andare avanti all'interno di un approccio che possa essere di tipo multidisciplinare. Pensare che il rapporto medico-paziente tra infettivologo e persona che vive con infezioni da HIV da solo possa esaurire quelle che sono le necessità che le problematiche relative alla salute mentale comportano penso sia molto riduttivo. Da questo punto di vista invece avvalersi dell'aiuto di altri professionisti come per esempio psicologi, psicoterapeuti ma anche farmacisti dedicati così come anche portare al di fuori il rapporto non soltanto appunto con le figure di aiuto ma appunto mi riferisco alle persone che ci compongono comunque la vita relazionale di ogni persona. Tutti questi elementi insieme possono aiutare il rapporto medico-paziente per riuscire a indirizzare tutti gli interventi verso quelli che sono gli obiettivi relativi appunto al miglioramento della salute mentale. Sul sito della campagna in partenza in questi giorni saranno disponibili dieci domande da porsi che potranno aiutare da un lato i pazienti a raccogliere le informazioni necessarie per essere maggiormente consapevoli e informati riguardo alla propria condizione e dall'altro la popolazione generale per contribuire così ad abbattere lo stigma. L'obiettivo della campagna in macro è abbattere tutti insieme lo stigma e il pregiudizio ovviamente per farciò diciamo che un elemento importante che è poi il claim della campagna è il parlarne. Oggi purtroppo mi viene da sottolineare lo stigma è ancora un problema allora è un problema in generale a prescindere secondo me dall'HIV e questo deve essere ricordato, le persone diciamo che vivono con HIV vivono ancora questo aspetto di stigma soprattutto per una poca consapevolezza diciamo che caratterizza le persone e una foca volontà a parlare delle proprie paure, dei propri pregiudizi, dei propri timori e di conseguenza ha poca volontà a superarli purtroppo o fatica insomma ecco.